e allora celebriamo questa regina questa regina a me mi sembra di sempre le stesse cose ma purtroppo è così ragazzi dobbiamo soltanto che parlare bene di questa squadra che sta facendo cose eccelse e oggi non ho visto la partita perché ero in treno non prendevo una mazza stavo tornando da Salerno ma questo video è soltanto per appunto celebrare questa che è la squadra più forte del almeno del suo girone sicuramente del girone C che conduce con 9 punti di vantaggio sul Monopoli 46 punti e una striscia positiva di vittoria in corso che equivale a 10 partite consecutive quindi ha una sola partita dal record del Cittadella che non mi ricordo che anno era ma lo andiamo a vedere qui sicuramente ha raggiunto il record del Foggia che risale dal 2016-2017 e ora si trova un passo dal Cittadella che fece 11 successi consecutivi nella stagione 2015-2016 e io credo senza che adesso chiaramente i tifosi della regina faranno tutti gli scongiuri del caso io credo che possa tranquillamente superare anche il Cittadella e quindi portarsi a 12 a 12 e a tante altre vittorie e gliele auguriamo sicuramente e quindi niente soltanto per fare i complimenti i complimenti al presidente Gallo i complimenti all'allenatore toscano e soprattutto anche perché no i complimenti al direttore sportivo Massimo Taibbi che io ricordo benissimo magari tifosi più giovani di me non lo ricorderanno ma è stato un ottimo portiere che ha raggiunto i suoi apici della carriera anche al Milan anche se poi se non sbaglio arrivò in quegli anni dove c'era Seba Rossi e quindi era molto difficile riuscire a giocare ma alla regina mi ricordo molto bene un gol di testa proprio negli ultimi luni nella fase di recupero per cui Taibbi sicuramente è stato un portiere importante e adesso pare che sia anche un direttore sportivo di ottimo livello quindi complimenti alla regina ripeto non è un video per raccontare la partita perché non voglio millantare cose quando non vedo però i complimenti quelli sì perché i complimenti li merita per queste 10 vittorie consecutive Grazie a tutti